Sì, grazie Presidente, grazie al Ministro per questa audizione. Io vorrei porre all'attenzione di tutti e anche del Ministro la questione da un punto di vista del debito. Allora, qui abbiamo il nostro Paese che nel 2012 viaggiava intorno ad uno spread di 500 punti base. E quindi all'epoca l'Italia decise di finanziarsi con i soldi degli italiani stessi, perché chiedeva ai pensionati di rinunciare all'indicizzazione. Praticamente il nostro Paese si è finanziato con i soldi stessi degli italiani. Cioè oggi abbiamo chiesto agli italiani, o meglio all'epoca, abbiamo chiesto agli italiani di sottoscrivere un derivato, una scommessa. Una scommessa sul loro futuro, cioè sul fatto che bloccandogli le loro pensioni, noi siamo andati a scommettere che la finanza pubblica sarebbe rientrata e oggi portavamo il famoso spread a dei livelli accettabili, perché la finanza pubblica non lo permetteva all'epoca. Quindi praticamente oggi noi siamo nella stessa condizione della Grecia, solo che la Grecia deve restituire i suoi soldi alla Troica. E ha già annunciato che il 5 di giugno non rispetterà la scadenza al Fondo Monetario Internazionale. E l'Italia sta facendo la stessissima cosa, cioè sta dicendo ai pensionati ai quali ha chiesto un finanziamento che non lo pagherà, non lo pagherà seppur c'è una sentenza della Corte Costituzionale che lo obbliga a farlo. Quindi praticamente la domanda è questa, cosa avreste fatto se fossero venuti quelli della Troica a chiedere di rimborsare un debito che magari all'epoca avevamo sottoscritto con loro? Questa è la domanda, se agli italiani si può dire di no, cioè ai creditori interni, ai cittadini stessi che finanziano lo Stato per sopperire ad una situazione, oggi siamo tornati alle stesse condizioni che c'erano prima dello scopio della bolla dello spread. Quindi siamo a 122 punti base di spread oggi. Perché non si può ripagare? Cioè significa che se questo stesso governo stesse in quelle condizioni a 122 punti base di spread avrebbe detto comunque ai pensionati che noi non vi paghiamo. Quindi questo governo deve andare a casa come quel governo che ha determinato la causa di cui stiamo oggi discutendo. E questa è la situazione, cioè dobbiamo elevare, qui stiamo parlando di un debitore e di un creditore. I creditori sono i cittadini, i pensionati che stando alla Costituzione hanno diritto a quel pagamento e un debitore che è praticamente fallito, non lo vogliamo dire, ma è questa la situazione. è una situazione di insostenibilità del pagamento anche delle nostre pensioni. Grazie. Grazie a lei. Aorevole Cariello. Presidente Damiano. Grazie Presidente. Non ne trovo altri nei miei appunti, c'erano però altri due punti generali. Ho veramente chiuso Presidente. Una questione relativa al fatto che in questo modo noi non rimborsiamo i soldi e quindi questo non mancato pagamento del debito ci mette in condizioni simili alla Grecia. Questa è un'affermazione da cui totalmente sono in disaccordo. E' proprio per non essere simili alla Grecia che le misure del decreto sono state prese. Perché altrimenti saremmo in una situazione estremamente seria. Non solo e non tanto romperemmo le regole europee, ma soprattutto rimetteremmo la finanza pubblica su un sentiero insostenibile. E quindi non è solo le regole, ma è la fiducia sui mercati che con grande difficoltà abbiamo riconquistato, che verrebbe messa in discussione.